Un pane dalla crosta croccante, dalla mollica morbida e verdissima. Avete indovinato l'ingrediente che rende questo pane così colorato? Sì, sono gli spinaci, o meglio la purea di spinaci, che aggiunta alla farina, all'acqua, al lievito e al sale rende questo impasto di un colore verde intenso. Dopo aver impastato tutti gli ingredienti tra loro, lasciamo levitare per un'ora e realizziamo alcune pieghe direttamente in ciotola, portando l'impasto dall'esterno verso il centro. Lasciamo levitare ancora per un'altra ora e dividiamo l'impasto in due parti, formando delle pagnotte che incidiamo in superficie con un coltello. Lasciamo riposare al coperto per circa mezz'ora, a questo punto possiamo infornare per 30 minuti a 180 gradi.